Sì ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash Royale Nel precedente appuntamento abbiamo fatto gli 1v1 con Saverio nelle varie modalità Quindi specchio, tripla strategica, carti in tavola, 1v1 classica E probabilmente poi fra un po' ti ritorneranno, ma oggi siamo sempre con Saverio Ma, intanto vediamo che ve lo dico lo shop, vediamo c'è questo baule d'oro Ma faremo le 2v2, quindi non ci contrasteremo a vicenda ma faremo le 2v2 Quindi andiamo, però le 2v2 classiche, non il touchdown, non niente di che Il mazzo è quello che avete visto nel precedente episodio Comunque tanto lo vedete Aspettiamo Xsave Ehm, dai Aspettate Perfetto Allora, questo è il mazzo che avete ormai conosciuto nel 1v1 Lui, questo è anche il suo mazzo di Ah già, questo non è il mio mazzo classico Però è il mazzo Quello che vi ho fatto vedere per le 2v2 che io uso Però questo mazzo è bello se entrambi i giocatori, quindi in questo caso anche Saverio lo usassi Però vabbè Lui userà il suo, io userò il mio Però voglio usare quell'altro Cioè ragazzi, io vi dico entrambi perché pensate a Ehm, oddio ragazzi, questo non è Non buono, non buono Diciamo, pensate a barile d'ossa Barile d'ossa, specchio Specchio per ognuno di noi, siamo da 4 barili Clonazione, clonazione Cioè, pensate a quanti Ok Qui posso usare i loro dei scheletri Dicevo, pensate a quanti barili possono poi cascare Un casino ragazzi Ehm, di certo si usa anche alla fine perché così il nemico non ce l'aspetta E di solito si spacca sempre Allora, mi sa che 1v2 è il mazzo Il famoso mazzo 2.6 con lo straveloce Niente, mi do cosa To, così, per forza Eh, bella, ma come bella Eh, sì, vieni, bella partita è una cioffeca Bella roba quella Gli butto giù il coso elettrico Non ci credo ragazzi Era one hit Peccato Però vabbè, abbiamo difeso molto bene Abbiamo difeso molto bene E ancora non ho potuto fare la mia tattica Brutte logiche Ehm, ah, io ho quelle pelle Allora Noi ancora non abbiamo toccato torre Ma questo non per molto Perché la mia principessa Bello quel gigante loial Qualche hit le la tira Invece no Devo appiazzare qui indietro Ma a noi che ce frega Quei boscaioli è stato praticamente inutile Ma va bene Allora Se Mi torna La torre infernale Chiedo per un amico Ok, meno male L'ultimo secondo ragazzi Eh Ho dovuto girare tutto Uh In tutto questo Mentre io non guardavo A sinistra hanno fatto La torre di sabbia Perfetto Ora lì c'è la strega madre Avete Non posso usare la mia tattica Con la strega madre Bella roba Quella roba Cosa ho detto Bella roba quella roba Ok, facciamo la mia tattica Almeno ci proviamo Almeno ci proviamo Ragazzi Almeno ci proviamo Con la nazione È andata malissimo È andata malissimo È andata malissimo Perché Si sono sdoppiati Lui e Rosha La capanna Cioè Gabbia Cobin Gabbia Cobin Direi di Fanable 3 4 Lo chiamo ancora Perfetto Magari Troviamo anche un baule raro E se trovassimo Un baule dal gigante in su Ragazzi ovviamente Userò le chiavi Per raperlo qui con voi Comunque se vi interessa I nostri video Mettete like Condividete il video Mi raccomando Perché siamo tornati Sia su GTA Sia su Royale Poi vedremo anche su Magari altri giochi Ora ci stiamo mettendo d'accordo Con Lorenzo e Saverio Ma intanto Godiamoci Clash Royale Ma io ero Minatore veramente Va bene Siamo il Mega Sghero Doppia sfera infuocata Ok bro Allora volendo Potrei usare la tattica Come ho detto Di solito si usa alla fine Ma Ma Anche perché Diciamo che Non gli è andata tanto di lusso E vabbè Ma che palli Cioè Che palle ragazzi Nel senso Cioè Doppia sfera infuocata E doppia tronco Ma con chi stiamo Eroando Da ma non ha senso Ragazzi Non ha senso Cioè Doppia sfera infuocata E doppia tronco Non ha senso Desistere sta cosa No C'hanno il 2.6 Ne sono accorto Perché Madonna ragazzi Ma che divertimento Cioè Tutti col mazzo uguale Tutti col mazzo uguale 2.6 Il mazzo del ciccio Che però È uten Che ho il mazzo Però Cioè Un po' di fantasia Cavolo Un po' di fantasia Ma perché non si è girato il domatore Ma che cosa sto vedendo Perché non si è girato Ma non ha senso Deve girarsi Cioè ragazzi Io sta gente la odio Ma perché devi fare tutti i mazzi uguali Ma fatti un tuo mazzo Cioè ragazzi Doppio tronco Ma ce ne diamo conto Che sto B Anzi sti B Ci hanno il doppio tronco Vediamo la Cosa fanno Niente Niente ragazzi Niente a fare Supportiamo quello No Sti diciamo Il 2.6 Voglio farci la torre a suon di Minatori E Domatori Wow Wow Che divertimento Cioè Che divertimento Già sti mazzi Eh Boy Vai 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 Poi hai il domatore al 13 Ecco perché Ragazzi Qui di solito faccio unità Queste qui Però Madonna Cioè il domatore al 13 Ragazzi Cioè è potenziato solo quello Dai Muori Niente Perso Intanto Volevo cambiare mazzo Ok Me lo sono ricordato Volevo cambiare mazzo Vabbè Sì sì Bravissimi Bravissimi Siete bravissimi Uno che usava il 2.6 Quell'altro Pecca Mago elettrico Aspetta un attimo Ok Possiamo continuare Vai Ho usato quello lì Delle prime partite In 1v1 Che è il mio nuovo mazzo Anche perché quello lì Come avete visto È un po' particolare Un po' particolare Ma tutti con il minatore Vabbè Contenti loro che usano il minatore Il pescatore Vabbè Il 12 È potenziato Ecco quello lì Col mazzo che ho io La sega margine Mi fa diciamo Un ciulo Molto grande Eh ma Eh vabbè ragazzi Diciamo Madonna che casino Eh però c'hanno il tronco In effetti Ho sovraccaricato Proprio per spettacolo Per content Ah non questo Ma questo Oh No Dai Non mi dico i penna Anche il giobotaniere Madonnina ragazzi Perfetto 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 Ragazzi Facciamo così Facciamo così Perfetto Boom Quello sgassa Posso fare questo Eh Quello spito Elettrico Però guardate Il giobotaniere Madonna Guardate il giobotaniere Si è fatto Si è fatto il principe nero Siamo ancora in svantaggio No Secondo me non devo caricare Perché ora ci buttano un tronco Grosso Come una capanna Basta Eh vabbè Adesso si fanno Esercito Belle Queste frecce Oh Molta la siga madre Mamma mia Odiosa Dai che forse Non arriva Perfetto Ragazzi Perfetto Piaccio questo Perché se no Esatto Aspettate L'isir Allora No L'ho anche piaciuta male Va bene Eh però Vedi che con quello spirito elettrico Mannaggia Lui Eh vabbè Ora ci inizierà a carriare Bello il bosco Che almeno tanca un pochino No No buono No buono Dai resisti Mannaggia Ah non tutto è perduto Buoni Ma la tronco Cosa mi ha piazzato Non ho capito Ah forse la gang Mamma mia ragazzi Che bella Tornado che ho tirato Gli ho spiazzato tutto Proprio Ok Lui probabilmente Userà il coso elettrico Mago elettrico Può darsi Esatto Vai Un po' di bordello generale Un po' di bordello generale Eh lui si è trovato costretto A difendersi Con la sua rinfocata Però Penso che si perderà anche questo Ma basta Stasca male Dai Madonna ragazzi Senti Venite qui tutti più vicini Ho le Ho tolta quella trugola Dai mezzo Vai Indietreggia Oh Guarda la mia trivella Guarda la mia trivella Guarda la mia trivella Guarda la mia trivella Buona 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 Il cuccio di rago Cioè il coso infernale Purtroppo non è arrivato Però Questi l'ha sentiti eh Stiamo piano piano recuperando Il recupero non è impossibile Mettiamola così Il recupero non è impossibile Caspita Togli il porcello Togli il porcello Togli il porcello Brutta roba Brutta roba Brutta roba Non so perché ho usato L'ordi scherzi Vabbè Ok Ok Da una parte mi va bene Perché Se l'ha buttato oranno Lo può usare dopo Quindi La parte GG Dobbiamo difenderci da questa Conte offensiva Per falso Per falso di oso Niente Loro continueranno Con questa benedetta Con la sfera infuocata E Niente Questa si è persa Persa per L'incantesimo Ragazzi Non per altro Tire con la sfera infuocata Loro ci la buttano giù Dai Robuttano la zap Si può perdere Ragazzi Si può perdere Una partita così A suon di Spell Dai Cioè Senza senso Senza senso Ragazzi Senza senso E soprattutto Ingiusta Ingiusta Anche perché Stiamo recuperando Ragazzi Nella seconda parte Della partita Stiamo recuperando Piazza una strega Tanto come Avete visto Troviamo anche gente Con le carte Molto alte Sì Beccatista Viva Ecco Si parte già Con una comune Al dodici Che vabbè Anche c'è una Però Finché una Può anche Tra virgolette Andar bene Però Tanto so Già che Belle Se frecce Bellissime Va bene Per lui Per lui Ci penso io Facciamo così Allora Vediamo Se loro Anzi Sì Se loro Perché sono due Come mi fermano La mia tattica Questa è la mia tattica Ragazzi La valkyrie al tredici Ragazzi La valkyrie al tredici Ma poi cosa là Dopo secondo elettrico Ma dai Ragazzi Ma dai Certo Fanno doppie Io non so se Ma probabilmente Non gioano insieme Perché cioè Se giocassero insieme Dubito che farebbero Le stesse mose Due volte No Poi non lo so Guarda Se me la butti giù Ci fa un grande farò Non ce la buttata giù Però forse Forse Resiste Non penso che ci dai No invece ci dai Non ce la devi dare Però c'è Ticato la torre Quindi GG E A B Diciamo così Vediamo cosa ci usano loro Eh Non ha senso Desiste Sti giocati non hanno Proprio senso Desiste Diciamo così Ah il tred No Perché Buono Buona Questa zap Eh Dai 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 vai giù vai giù vai giù Anche te Mannaggia a te vai Mori un po' Qui ci vuole per forza di ose Una bella Tornado Che madonna Ragazzi di Tornado Tornado L'ho rivalutata L'ho rivalutata Un botto Vediamo cosa ci usa Vai Pirotecnico Fai un po' di bordello Un po' di bordello Vai Non ha ucciso la strega Direi Comunque dopo di questa ce ne facciamo O Cristo Un altro E poi basta Perché Se mi gira Tornado Ora si è vinto No Non si gira No 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 Addio Bono E vabbè Ora che faccio Mi muore anche il Pirotecnico No Madonna 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 Vai Oddio Con la cintilla Dubito 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 Molto Niente Peccato ragazzi Peccato Ma Ci può capitare Tutta sta gente qui Via Facciamoci l'ultimo E basta Però Cioè In questo periodo I bauli Li faccio Con Le Ma Si può andare Quelli che Ti danno bauli Però non ti danno Coppe Tipo 2v2 O ora che c'è Tipo 2v2 Touchdown Eccetera eccetera Ho anche sbagliato Perché se ora inizia subito L'età quello No Sabe No Sabe Facciamo fare Questa mossa Vì Cioè Ti favo le torri Tantaro Ma poi tu ti guarda Stica madre Cioè Andava Andava Forte Tipo Boh Due season fa Tre season fa Allora è tornato in vlog Vabbè Bene quelli Eh Vabbè Questo non è un problema Per il mio mazzo Non è un problema Perché lo attiriamo così No Sai Ma non Quello Loro Loro no Oddio Vabbè Però 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 Se mi si gira Tirano le carte Niente Eh Invece Se lui L'ora di scherzi L'avessi usata Per il principio Invece che Buttarla Per il gigante Elettrico Questi Diciamo Non arrivavano Peccato Peccato Spero che Ci pensi Lui Alla Principessa Potremmo Usarlo prima Però Vabbè Cioè Le nostre storie Sono a 600 Di vita Vabbè Usiamo questo Usiamo questo Boh Non lo so Proviamo così Non possiamo prendere A sta gente Però Cioè Le persone che ti fanno Il doppio tornado Ma siamo seri Dai Io ho pure sbagliato Vabbè Però dai Cioè Il doppio tornado Così Proprio Senza senso Ma sì Ma mettimi più carte Cristo Eh no Caro amico Guarda quella Principessa Ma guarda come rompe La principessa Cioè Dalla parte No Vabbè La principessa Comunque N'assenza Io sono esagerato La principessa Cioè Dalla parte opposta Della mappa Cioè Due corone Perse Di fila Senza senso Ragazzi Vi Ci facciamo Trivella V E barile di va Ragazzi Cioè A parte una vittoria Se ho fatto il resto Tutte sconfitte A me dispiace Però Che vedo di Quando trovi la gente Con le carte Al 13 Cioè Principessa al 12 Megasguero all'11 Gang al 13 Scintilla al 10 Poi cosa c'hanno Ancora non si vede però Al 12 Al 13 Ragazzi Io al 13 Non ho nessuna carta Non ho nessuna carta Infatti Non riesco Ragazzi Non riesco Perché Ora Volendo Anche volendo Se scalassi Non riuscirai a scalare Perché A questo numero di coppie Ci sono tutti quelli O almeno La maggior parte Cioè Già li trovavo Prima Ok Perché io sono rimasto Molto bloccato Nelle 4900 Ora Alle 5000 Ci trovi per forza Tra virgolette Soprattutto perché All'inizio del season Tanti hanno diminizzato le coppie Quindi sono più o meno Al mio livello Anche se magari Sarebbero 5300 5200 Eccetera eccetera Quindi Peccato perché Cioè Se andassi ora a combattere Prossimamente Magari nei prossimi video Giocherò io da solo Per fare un po' Questi slot bauli Però Non avendoci le carte 12 Vabbè Tutto al 12 Tanto o tanto Ma Ragazzi Io qui al 12 Ho solo questa Quindi Ragazzi Le epiche C'ho la 2 al 10 Questo al 10 Finché non le potenzio Siamo punto a capo Ora per fortuna Qui se non sbaglio C'ho un bel baule Un bel libro Delle comuni Che lo posso usare Non tanto per questo Perché Ragazzi 100.000 oro Non ce l'ho Però magari O per loro O per lei Insomma Si vede Il prossimo video Probabilmente sarà Per l'appunto Un po' di scalata Almeno si prova Tra l'altro Questi Li ho anche fatti Entrambi Senza dover Spendere i gemmi Per continuare Con due tentativi Entrambi Però ce l'ho fatta Dai Se mai poi vi poterò Anche un video Su questo tornea Però sono partite Classiche Normali Quindi non so Se poi ha senso Però se ci Ci può Oddio Se poi ci saranno Sfide speciali Interestanti Ve le porto sul canale Questo ne ho portato Perché Tanto Alla fine Ho detto Non penso Ci sia stato contenuto Qui invece Siamo arrivati Arancioni Tra l'altro Se vi interessa Entrate Il clan Ecco questo Italian Kings Siamo a breve Arrivati A Come si dice Lega Argento Sì Lega Argento 1 Se volete Partecipate Nelle guerre Spesso e volentieri Vinciamo Ho già Recentemente Ho fatto un po' Di buzzini Infatti siamo In 45 E presto Ne farò alta Come avete visto C'è Diregente offline Per così di tutto Lasciate like se vi è piaciuto Condivetevi Iscrivetevi Noi ci vediamo alla prossima Con il prossimo video Un saluto E ciao a tutti Ciao a tutti